VORREI UN ANTIPASTO Vorrei un'antipasto. Vorrei un'insalata. Vorrei una minestra. Vorrei una minestra. Vorrei un dessert. Vorrei un dessert. Vorrei un gelato con panna. Vorrei della frutta o del formaggio. Vorrei della frutta o del formaggio. Vogliamo fare colazione. Vogliamo fare colazione. Vogliamo pranzare. Vogliamo cenare. Che cosa volete a colazione? Panini con marmellata e miele. Panini con marmellata e miele. Toast con salumi e formaggio. Toast con salumi e formaggio. VARENE JETZE Un'uovo sodo. Un'uovo sodo. JETZNU Un'uovo all'occhio di bue. Un'uovo all'occhio di bue. Omelette. Una frittata. Una frittata. Una frittata. Una frittata. Budlaskasce yogurt. Ancora uno yogurt, per favore. Ancora uno yogurt, per favore. Budlaskasce sili i perez. Ancora sale e pepe, per favore. Ancora sale e pepe, per favore. Budlaskasce sili i perez. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore.